Buongiorno ragazzi, oggi vorrei raccontarvi due iniziative del progetto Smart School a cui potrete partecipare sia come singoli che come gruppo classe. Il primo laboratorio online si intitola i giorni del virus e consiste nella realizzazione di un diario digitale del lockdown attraverso l'iscrizione a un canale Telegram. Potranno partecipare tutti i ragazzi dei 14 e 18 anni. Come sappiamo l'emergenza in corso ha generato una significativa quantità di narrazione iconografica ormai impressa nel nostro immaginario collettivo, ma l'azione che vorremmo proporvi consiste proprio nel farvi raccontare la vostra quotidianità, non tanto dal punto di vista dei luoghi simbolo di questa pandemia, come sono stati gli ospedali o le strade, ma vi invitiamo proprio a concentrarvi su di voi e sul vostro modo di reinterpretare questo momento storico. Come potete partecipare? Attraverso un gruppo Telegram, che come sapete è un social network, che ha una buona qualità d'immagine, un ottimo spazio e cloud, un moderatore che filtrerà i contenuti e ha una possibilità di accesso tramite diversi dispositivi, potrete appunto rispondere a delle domande, più o meno saranno tre settimana. Vi dico già che non saranno domande difficili o troppo impegnative e sarete liberi di rispondere o meno. Nessuno vincolerà ovviamente la vostra creatività, voi potrete tranquillamente rispondere a queste domande attraverso dei testi, video, fotografie, pensieri o canzoni. L'attività online gratuita durerà un mese e sarà un'ottima occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità condividendo sensazioni diverse a più domande. Quindi per raccontare questo momento storico e per raccontarvi in modo creativo iscrivetevi entro il 10 marzo, c'è un limite di 20 presenze.